Ciao raga, vi voglio dire seguitemi quando vedete, poi lo sto fatendo ora questo pomeriggio, veloce che è tardi, iscrivetevi al canale, attivate campanella per tutti i ragazzi, un mi piace, volete, fate i bravi, oggi portiamo di questo pomeriggio Omicol, così parliamo con le persone, veloce che è tardi, e niente, io aiuto la mia famiglia, voi chiudete la bocca, comando io, sono la leggenda, sono famoso e sono uno youtuber, e sono il numero uno e sono il dio di youtube, fate i bravi, saluto Paolo, Silvia, Claudia, Gloria e Silvia, Mary e Jennifer con la termicologia in Luzia del Nord all'Ologo X, ho detto giusti i nomi, non è che ho sbagliato, io so parlare, voi non sapete parlare, la mascherina si deve mettere fuori e intra, e quando si va in giro, andiamo a fare Omicolo, prendiamo quell'altro cellulare, così lo faccio veloce, dai, oh raga, oggi portiamo questo qua, a prossima portiamo altri nuovi episodi, in un'altra maniera, ok, andiamo avanti dai, lo registro ora, io vi voglio bene, sapete che io ci sono sempre per voi, non come quell'altro, a madonnina Gesù aiuta a quella persona e tutte le persone che stanno curendo e stanno male, madonnina aiutami, le devono aiutare, stanno bene, così che io li voglio bene a tutte le persone che mi seguono, baci, ok, registriamo. guardo io boh, io mi dissocio che hanno visto le persone boh, ci sono quelle che fulgono, ho messo la maglia della Juve, vabbè, vado avanti, vi voglio dire che io tifo tre squadre, la Juve, la Regina e Italia, fino alla fine e fino alla morte, ok? raga, non ho messo pausa su Omicol, forse mi ha visto qualcuno che mi conosce sentite parlare la mia famiglia va bene, vabbè, voglio persone serie, così parlano con me raga, io voglio prima parlare o mi rispondono loro e io rispondo o rispondo io, questo video lo porto lo stesso, è un poco, quando ho cominciato e quando finisce, devo parlare un poco con le persone, vediamo boh, vado avanti che c'era il schermo nero guardo e mostro a voi vediamo perché fate così? i occhi si chiudono e si aprono raga, seguitemi tutti e quando vedete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti i ragazzi, un like, mi piacciono questi video, ho un poco di minuti che non parlo con loro vediamo avanti, vi voglio dire, mi devo fare anche la barba, mio papà, mia mamma e mia nonno, vi voglio bene, voi mi volete bene a me, insultate a quell'altro canale, non insultate a me, mi volete bene a un accento, state con me, tranquilli e saluto tutti, ok? se arrivo, vediamo e cercamo altre persone ok vediamo ciao ciao guarda avanti scrive solo raga, quelle persone con il buio, scrivono solo, non parlano con la bocca bu ciao 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 avete visto questa persona mi salutare e io lo saluto ciao 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 cosa stai facendo? mi passi il tempo, mi guardo la serie tv ah e voi? ero vivo? niente io mi dissocio, mi dissocio, io vabbè ah andiamo avanti sto parlando con brave persone aspettate che il mio papà mi sta chiamando, arrivo a tra poco e sentite parlare è il mio papà che chiama mia mamma mi vuole bene, non è non pensate male, arrivo, aspettate aspettate raga, metto pausa che il mio bastone dei selfie cala per sotto andiamo nella mia stanza che dite è meglio lì dai ok, facciamo ancora vediamo vediamoci qualcuno aspettate cacciare la luce ecco qua guardo prima io raga è un po' meno conosciuto però in questo caso non so come me proprio non lo trovo in altre soluzioni mi dissocio parlava a telefono questo andiamo avanti voglio solo le persone che si vedono e parlano dicono ciao vediamo guardo facciamo un'altra facciamo un'altra ciao 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 io mi dissocio ciao 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 ciao